Noi siamo la scuola Gino Mattarelli di Frattaterme, nell'IC di Bertinoro, provincia di Forlicesena. Noi abbiamo aderito a questo progetto perché crediamo nella natura, siamo prima di tutto una scuola di outdoor education, quindi tutte le nostre attività vertono su studio della natura, rispetto della natura e tutto quello che ci permette di stare in mezzo alla natura per salvaguardarla, per conoscerla e per imparare poi a muoversi in un domani che deve essere un domani ecologico, un domani nel quale il nostro mondo speriamo sia pulito e sia a misura d'uomo, tutto questo per noi è fondamentale. I nostri bambini sono sempre molto entusiasti e hanno tanto piacere di fare delle attività legate alla natura, in particolare l'attività di oggi è stata davvero diciamo molto molto frizzante per loro, li ha davvero catturati, sono stati sicuramente tutti molto contenti di partecipare a questa cosa e anche per noi insegnanti è stata una cosa davvero molto positiva. Ringraziamo chi ci ha permesso di fare questa bellissima attività.